Ancora una tragedia sul lavoro in Abruzzo. Oggi pomeriggio a Teramo un operaio di 26 anni originario di Campli è morto folgorato mentre lavorava su un traliccio dell'alta tensione nei pressi di Contrada Travazzano vicino a Valle San Giovanni nella zona che vi stiamo mostrando attraverso le immagini girate dal collega Nico Centurame. L'operaio sarebbe morto sul colpo a causa della potente scossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Teramo, il 118 ma non c'è stata alcuna possibilità di soccorso. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La polizia sta svolgendo accertamenti.